Ciao a tutti, noi siamo i gatti pazzi. Lo scopo di questo gioco è ritrovare il nostro cane Lucky. Lucky è sparito, un bullo lo ha rapito. Vediamo un po'. Segue il sentiero. In questo gioco avremo delle domande che se risponderemo correttamente avremo un indizio. Se invece sbaglieremo non andremo avanti. Se il tuo amico viene piccato da un bullo, picchi il bullo o chiami un adulto. Chiami un adulto. Un blocco di diamante. Seguiamo la strada di diamanti. Questo, infatti, il blocco di diamante è un indizio. Noi stiamo andando su una collina dove troveremo un edificio dove sarà situata la prossima domanda a cui dovremmo rispondere correttamente per andare avanti e continuare i nostri indovinelli. Guarda le statue. Bullo, tu. Che fai? Piangi e scappi, cerchi aiuto, cerchi aiuto. Una piccozza di diamante. Con questa si spaccano alcune cose molto dure. Lucky, indica qua. Seguiamo questa strada. Spacca i blocchi qui sotto. Vediamo. Un bullo è una persona che nasce cattivo, che diventa cattivo, che diventa cattivo. Ha sempre torto. La vittima è il bullo. Il bullo. Perché il bullo è cattivo? Perché è ferito per qualcosa, quindi sfoga? O perché ha letto un libro sulle cattiveri? La prima. La vittima dovrebbe vendicarsi o perdonarlo o aiutarlo. Beh, perdonarlo o aiutarlo. Vediamo un po'. L'ultima domanda. Il bullo aiutato può cambiare meglio o uccidere la vittima? Cambiare meglio. Quindi potrebbe cambiare meglio anche il bullo che ha rapito Lucky. Ecco il bullo che ha rapito Lucky. Vediamo. Tu hai parlato al bullo e ha capito i suoi errori. Ora il bullo si è pentito e siete diventati amici. Vediamo un po'. Vediamo un po' se qua ci sarà Lucky. E abbiamo anche ritrovato Lucky. Un po' se qua ci sarà Lucky.